Il dottor Losapio la manda a cadabra all'Hiroshima Mon Amour il 29 di dicembre. Ma pochi trionvalismi perché noi abbiamo fatto solo 10 persone di preventità. Allora i Hiroshima fanno tutto sold out e anche noi lo vogliamo fare, porca la miseria. E allora cari amici vi aspettiamo il 29 all'Hiroshima, anche voi potrete essere i protagonisti di questo finalmente sold out del dottor Losapio accompagnata da questa band memorabile che è la banda Cadabra. Eccolo qua che bravo. L'unico spettacolo cari amici pagabile anche in Rebaudengo, la moneta di Barriere di Milano. Ma potete anche pagare in euro e anche in dollari. Ma quanti Rebaudengo? 12 Rebaudengo, che corrisponde a 12 euro. Ma potete anche pagare con i dollari. O perché con l'oro o perché no? Ecco, anche con l'oro. Io pagherei con la mirra. Ecco, lei pagherebbe con la mirra. Però non venite con l'incenso perché abbiamo la casa piena. Potete anche pagare in tintoretti e noi li accettiamo. Posate d'argento, posate d'oro. Comunque il 29 insieme al dottor Losapio e alla banda di Robaforte ci sarà anche la banda Cadabra. Vi aspettiamo il 29 Hiroshima e Monamour puntuali per questo grande spettacolo. Dai, crediamoci. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Un po' più... Dai, 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 dai. Dai, dai, dai.